Saranno oltre mille i clienti piacentini che saranno rimborsati da Enel, Iren ed Era a fronte dei danni causati dall'interruzione dell'energia elettrica avvenuta durante le nevicate ed inizio febbraio. Una consolazione dopo i disagi patiti da cittadini e aziende che si sono ritrovati privati dei servizi essenziali a causa della coltre bianca che è stata capace di paralizzare attività economiche e trasporti. In Emilia-Romagna saranno rimborsati 147.222 clienti fra privati e imprese per un importo pari a oltre 27 milioni di euro. A Piacenza i rimborsi sono 1.126 per un totale di 130.720 euro. I criteri in base ai quali sono stati definiti sono quelli previsti dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico che stabilisce che i resarcimenti scattano quando l'interruzione improvvisa minima per i comuni definiti ad alta concentrazione territoriale, cioè con più di 50.000 abitanti, supera le 8 ore per le utenze domestiche e le 4 per le attività produttive. Limiti orari che aumentano invece nei comuni più piccoli. Le società che gestiscono il servizio hanno comunicato che i risarcimenti sono stati in parte già corrisposti, i rimanenti lo saranno nella prossima bolletta. Intanto però l'autority sta effettuando un'indagine per valutare possibili ulteriori iniziative a garanzia dell'equità dei rimborsi.